Musica Edizione della sera del TG Versilia, ben ritrovati con la nostra informazione. E' ancora nell'occhio del ciclone, liceo Chini di Lido di Camaiore all'indomani del ride vandalico che aveva portato aria respirabile nell'istituto a causa del svuotamento degli estintori da parte di alcuni vandali. Oggi gli studenti sono scesi fuori dalla scuola per protestare e per dire no al trattamento subito da parte della dirigenza scolastica dopo che alcuni studenti sono finiti anche in ospedale. Ma sentiamo la posizione degli alunni dell'istituto in questo servizio. Non cala la tensione all'istituto Galileo Chini di Lido di Camaiore. Anche stamani, sui volti degli studenti, si leggeva comprensibilmente il temore di entrare nelle classi non bonificate dai vigili del fuoco dopo l'incursione vandalica dell'altra notte e di disorientamento per la situazione incresciosa venutasi a creare. Ma anche di delusione per essersi visti privare dell'incontro con la dirigente scolastica per fare il punto della situazione. Questa protesta perché dentro quella scuola sono appena uscite delle ragazze con tutti degli sfoghi cutanei e anche ieri non riuscendo quasi a respirare perché quella scuola lì non è stata pulita con le assistenze specializzate ma è stata pulita dai bidelli, l'abbiamo visto con questi occhi. Perché questa riunione di ragazzi? Perché la preside della nostra scuola, Sandra Pecchia, non ci ascolta mai. Perché noi abbiamo scritto una lettera e lei ci ha risposto con cose assurde. Ieri la scuola ci ha fatto entrare con la scuola non sicura dicendo che siamo usciti dopo mezz'ora quando siamo usciti di nostra volontà e ha detto di ritrovarci nel punto di ritrovo quando noi studenti siamo usciti perché non si respirava. Allora, è veramente da vergogna il fatto che la preside abbia fatto entrare gli studenti in un luogo non sicuro soprattutto quando noi siamo venuti a scuola che dovrebbe essere il luogo più sicuro del mondo persone che sono finite all'ospedale ricoverate anche la notte. Questa è veramente un'ingiustizia. Se questa è scuola non ho parole, veramente. Non è giusto. Siamo al futuro, benessi al sicuro! Siamo al futuro, benessi al sicuro! Voltiamo a pagina. Via Reggio e la Versilia si preparano al grande evento espositivo Versilia Iotti in Rendezvous che partirà questo giovedì e alla vigilia di questo evento arriva la buona notizia per i lavoratori di Azimut Benetti. Non verrà dismessa l'officina in porto. A Via Reggio è stato assicurato dai vertici del Colosso della Nautica e dopo il Salone invece si andrà a scegliere la forma di referendum tra i lavoratori. Sentiamo. Nessuna chiusura per l'officina Benetti-Azimut di Via Reggio. Stamani è stata siglata l'ipotesi di accordo aziendale nel cantiere della Darsena e le prime impressioni emerse dall'Assemblea dei Lavoratori sono positive. L'intesa si qualifica per avere ridefinito, dopo anni di accordi ponte, un modello di relazioni sindacali e industriali che confermano le buone prassi in essere con un ruolo rinnovato per la RSU aziendale. In particolare, dal punto di vista industriale, si conferma la struttura aziendale esistente nelle sue articolazioni produttive, come l'officina, organizzative, amministrative e commerciali senza ridimensionamenti di alcun genere. Per il sito di Via Reggio, in Azimut e in Benetti, si prospettano nuove produzioni, con nuovi modelli per il triennio di vigenza dell'accordo. Dal punto di vista più strettamente sindacale, l'intesa si qualifica sul versante degli appalti, dove sicurezza e rispetto delle normative e dei contratti diventano il discrimine per lo svolgimento delle lavorazioni in azienda, pena la rescissione dell'appalto. Vi è poi un percorso di riconoscimento delle qualifiche del personale, che sarà oggetto di negoziato aziendale con il ruolo protagonista della RSU. Infine, sul piano economico, spiega Nicola Riva di FIOM, CGL e Versilia, il premio legato al conseguimento di obiettivi di redditività, efficienza e qualità appare oggi tra i più significativi dell'intero settore della nautica. Nei prossimi giorni, dopo il salone di Via Reggio che chiuderà i battenti il prossimo 14 maggio, i lavoratori si esprimiranno definitivamente sull'intesa raggiunta attraverso un referendum. E come avete sentito si aspetta il salone della nautica, così è stato ribattezzato questo Versilia Yachty Rendezvous, prima edizione, preparativi in corso proprio in questi giorni, ultime ore per rendere il porto di Via Reggio e l'intera città accogliente per i brand più importanti del settore nautico internazionale. Vediamo. Meno di 48 ore separano Via Reggio dalla prima edizione di Versilia Yachty Rendezvous, il nuovo appuntamento internazionale organizzato da Fiera Milano con il Distretto Tecnologico per la Nautica e da Nautica Italiana, in programma dall'11 al 14 maggio. Non un evento in concorrenza con il Salone di Genova, né una riedizione della Mostro Internazionale che si tenne a Via Reggio negli anni Ottanta, bensì qualcosa di diverso ancora. I preparativi sono in pieno svolgimento, pronta in piazza Mazzini la barca in cartapesta dei fratelli Cinquini a dare il benvenuto che unisce Nautica al Carnevale. Più di 100 gli espositori attesi tra cantieri ed esponenti a livello mondiale della Nautica, molti di quei big che proprio in Darsena sono di casa con i loro cantieri, quasi 50.000 metri quadrati all'interno delle Darsena, Italia ed Europa e lungo la Via Coppino. A fianco alle imbarcazioni, in acqua, il percorso espositivo che si svilupperà in tre aree tematiche. I brand italiani dell'accessoristica e componentistica nautica presenteranno tutte le novità del settore, tra tecnologia, funzionalità ed innovazione del Made in Italy. Via Reggio si prepara anche sul piano del traffico, rivoluzionata da giorni la viabilità in Darsena nei presti dell'evento, pronto un piano straordinario della sosta deliberato dalla Giunta Comunale. Oltre mille posti auto, parcheggi a tariffa speciale, navette di collegamento. Nel dettaglio si potrà parcheggiare nelle aree ex latino-americano, piazza Alga Soligo, Palace Port, Stazione Vecchia, Marina di Levante e Mercato Ittico, per tutto il giorno dalle 9 alle 21, pagando 10 euro anticipatamente. Da lì partiranno bus e navetta che porteranno gratuitamente i visitatori nell'area espositiva. Parliamo ancora di grandi, forse grandissimi eventi, dovremmo dire, musicali. In questo caso è stata ufficializzata oggi la presenza dei Rolling Stones al Lucas Summer Festival, quest'estate, il 23 di settembre, a portarli al Festival Lucchese, il promoter Via Reggino, Mimmo D'Alessandro. Sentiamo. La notizia era nell'area da settimane, da mesi, ma Mimmo D'Alessandro aveva sempre smentito giocando il suo ruolo di perfetto tattico. Adesso è ufficiale, Rolling Stones saranno al Lucas Summer Festival il 23 settembre. L'annuncio è arrivato nel giorno in cui la storica band inglese ha svelato il tour 2017, durante il quale suonerà negli stadi europei a settembre e ottobre. Per l'unica data italiana di questo tour, Mick Jagger e compagni hanno scelto Lucca e la Toscana, un'area che ha sempre esercitato su di loro un grande fascino, tanto che la nostra città ha battuto la concorrenza addirittura di Venezia. Soddisfatto ed emozionatissimo, per Mimmo D'Alessandro si realizza un altro sogno. Non ho parola, non ho parola, guarda, io non ho dormito stanotte, ancora non ci credo, però ora c'è l'annuncio di Mick Jagger, quindi però è un'emozione incredibile, non è raccontabile che non avrei mai pensato di riuscirci. Ci abbiamo messo 16 mesi, però alla fine ci siamo riusciti e sono felicissimo, non ho parola, sono emozionato come un bambino, come all'inizio, quindi puoi immaginarti uno stato d'animo, non lo so nemmeno io. Per la conferenza stampa di annuncio a Lucca sono arrivati i principali esponenti della carta stampata e dei media nazionali. La serata sarà la degna chiusura dell'edizione del ventennale del Lucca Summer Festival. Per la prima volta sarà utilizzata l'area dell'ex campo Balilla con una organizzazione a dir poco imponente. I biglietti saranno in prevendita esclusiva dalle ore 9 di giovedì alle ore 9 di sabato con l'app ufficiale della band e i titolari di American Express. Dalle 10 di sabato 13 maggio scatterà la vendita generale in esclusiva su Ticket One. I prezzi? Si va dai 100 euro per un normale biglietto in piedi ai 300 per la pitaria sotto il palco. I 55.000 posti a disposizione molto probabilmente andranno esauriti in pochi giorni. Incontro questa mattina fra il sindaco di Viereggio del Ghingaro e il questore di Lucca Vito Montaruli. Una visita che fa seguito ad un primo colloquio che c'è stato in questi giorni fra il primo cittadino e il nuovo dirigente del commissariato di polizia di Viereggio Lucio Vasaturo presente anche questa mattina all'incontro istituzionale. Priorità garantire ai cittadini la libertà di vivere in ogni spazio urbano e questa è la dichiarazione rilasciata dal primo cittadino a margine dell'incontro. Con le immagini adesso nella pineta di Ponente, alcune settimane fa l'inaugurazione del laghetto dei Cigni con i volatili che sono stati riportati dal comune in quello specchio d'acqua, oggi la polemica per lo stato di salute dei pavoni. Sentiamo perché. Quante volte li abbiamo criticati per la loro vanità quando spalancono a ventaglio la loro splendida coda. I pavoni sono ipnotici e ammalianti. È uno spettacolo vederli. La bellezza dei loro colori è unica. Al laghetto dei Cigni, nella pineta di Viereggio, da qualche settimana abita una splendida coppia di pavoni, maschio e femmina. Ma stando alle testimonianze di alcune persone, non sarebbe vero che questi uccelli camminatori si adattino a vivere bene in qualsiasi ambiente. Domenica sera il maschio ha lasciato il laghetto dei Cigni, dove non sembra essersi adeguato, ed è stato per fortuna recuperato vivo nel quartiere Marco Polo. Stamani la femmina è scivolata in acqua e ha rischiato di affogare. Quei laghetto forse non è il luogo ideale per loro? Questo è un laghetto che non c'entra nulla con i pavoni. I pavoni bisogna che abbiano un luogo a sé, un luogo idoneo per poterli mantenere. Oltretutto stamani mattina il pavone femmina è caduto nel laghetto. Grazie solamente all'intervento di una persona che si stava occupando della polizia del laghetto è riuscita a metterlo nella parte terrosa del laghetto. Non è una zona per i pavoni. Qui le biciclette, i bambini, c'è troppa confusione per questi animali che hanno bisogno del loro territorio e della loro privacy, del loro habitat, della loro tranquillità. Quindi sarebbe meglio portarli in un'altra area. La pagina politica con la prima riunione, la prima assemblea comunale del Movimento Democratico Progressista il nuovo soggetto politico del quale fa parte il sindaco di Viareggio del Ghingaro la senatrice Emanuela Granaiola e il presidente della regione Enrico Rossi che era presente al momento dell'incontro alla Croce Verde Viareggina. Vediamo. Dopo i banchetti e i volantinaggi è arrivato il tempo della prima assemblea comunale e lunedì sera a Viareggio di MDP, acronimo di Movimento Democratico Progressista soggetto politico nato a livello nazionale dall'ascissione del Partito Democratico. L'appuntamento era fissato per le 21 nella sala congressi della Croce Verde in via Garibaldi alla presenza del presidente della regione toscana Enrico Rossi del sindaco di Viareggio Giorgio del Ghingaro della senatrice Emanuela Granaiola di molti esponenti della politica locale di Reggina e Versiliese e simpatizzanti del Partito Democratico. Scopo dell'assemblea? La nascita della nuova formazione politica Articolo 1 Movimento Democratico e Progressista. Articolo 1, ha spiegato Fabrizio Manfredi uno dei promotori del movimento a Viareggio insieme al sindaco e alla senatrice Emanuela Granaiola nasce con l'obiettivo di ricostruire un campo di centro-sinistra largo, aperto e di governo. Non saremo la ridotta della sinistra, ha detto il presidente della regione toscana Rossi. Il nuovo movimento politico pone nuovamente al centro temi cari alla sinistra, ovvero quelli legati al lavoro e alla povertà. Il paese soffre, ha aggiunto, e la sfiducia aumenta. Esplodono le diseguaglianze, la povertà e la disoccupazione toccano livelli inimmaginabili fino a qualche tempo fa. Noi, ha concluso il presidente della regione Rossi, vogliamo dar vita ad uno spazio di confronto, partecipazione e dialogo in cui tutte le idee di tutti possono avere cittadinanza e ognuno possa sentirsi a casa. E' lutto in Versilia per la scomparsa di Solidea Paoli, scomparsa in queste ore. Lutto soprattutto nella sezione Gino Lombardi dell'Ampi Versilia. Era infatti sorella del partigiano Amos Paoli, decorato alla memoria della medaglia d'oro al Valor Militare. I funerali di Solidea Paoli si svolgeranno mercoledì 10 con un corteo funebre che alle 16 dalla chiesina dell'ex Casa di Riposo raggiungerà il Duomo di Pietrasanta. Adesso invece vi parliamo di questa iniziativa organizzata da Gaia che ha portato i bambini piccoli, 3, 4, 5 anni di una scuola a Pietrasantina a conoscere come funziona il ciclo dell'acqua in Versilia. Vediamo. Ha preso il via il progetto Alla scoperta dell'acqua, iniziativa didattica che il gestore del servizio idrico Gaia dedica a tutte le scuole del territorio, lezioni in aula da parte dei responsabili del servizio acquedotto e visite guidate negli impianti in concessione. Quasi 40 baby alunni tra i 4 e i 5 anni della scuola dell'infanzia Fratelli Grim di Ponte Rosso di Pietrasanta hanno assistito ad una lezione in classe sull'acqua tenuta da Alfredo Brunini, capo servizio dell'acquedotto di Gaia nella Versilia Sud che li ha ascoltati poi all'esplorazione del campo Pozzi frati di Camaiore e alle sorgenti Casoli. Qui gli alunni hanno potuto ammirare i luoghi da cui viene catturata l'acqua che scorre dal rubinetto di casa e a prenderne i segreti. Sono 32 in tutto i Pozzi affrati con una profondità variabile tra i 13 e i 30 metri servono la zona di Camaiore Centro, Periferia, Lido di Camaiore una parte dell'acquedotto di Viareggio e di Marina di Pietrasanta. L'arte adesso andiamo a Pietrasanta dove nella Sala delle Grasce si è aperta una nuova collettiva di artisti, di artigiani tutti i locali che espongono in questa iniziativa che vede collaborare Comune e ArtigianArt. Vediamo. Il volto di marmo di Gesù di Nicola Stagetti il teschio di Valentina Luccarini la metafora dell'architetto di Tiziano Lera e ancora i leoni marmo bottoncino di Ulderigo Giannoni ma anche la riproduzione in bronzo della testa di Napoleone e di Antonio Canova della Fonderia d'Arte del Chiaro. Sono alcune delle preziose opere della mostra Le Mani Segrete che si è aperta sabato scorso nella Sala delle Grasce nel complesso del Chiostro di Sant'Agostino a Pietrasanta. È la prima parte di una mostra frutto della sinergia tra Comune, Centro Arti Visive e ArtigianArt che coinvolgerà nelle prossime settimane anche la Marina con il suo pontile e le principali piazze di Tonfano ma anche il giardino del Centro Arti Visive nell'ex convento di San Francesco è letto a sede espositiva permanente. La mostra continuerà nei prossimi giorni e allestiremo con opere monumentali la parte del pontile di Marina di Pietrasanta piazza 24 Maggio e via Dondinzetti. Spero che questo sia un inizio di un grande percorso di collaborazione sempre migliore che porti in risalto l'identità di Pietrasanta. Il rilancio della Fondazione Centro Arti Visive di Pietrasanta riparte anche attraverso i nostri artigiani. Nelle prossime settimane verrà allestita nel giardino dell'ex convento San Francesco una mostra di grandi opere dei nostri artigiani di Pietrasanta. Sarà una mostra permanente e si alterneranno i vari laboratori artigiani di Pietrasanta per tutto l'anno. Sono già presenti due opere una di una fonderia di Pietrasanta e una di un laboratorio di scultura. La mostra resterà aperta fino a domenica 21 Maggio a ingresso libero dalle 16.30 alle 19.30. Sarà inaugurata durante questo fine settimana la grande ruota panoramica di Lido di Camaiore. In questi giorni si sono chiuse le operazioni di montaggio dell'attrazione e rivelazione dell'estate scorsa. Alta oltre 35 metri, installata ancora una volta dalla Moruzzi, vincitrice della gara bandita dal comune di Camaiore, la ruota come vedete fa già bella mostra di sé in piazza Castracani all'Arlecchino. Nel 2016 ha dichiarato l'assessore al turismo Carlo Alberto Carrai la foto più condivisa sui social nell'estate è stata quella della ruota di Lido di Camaiore una promozione a costo zero per la Versilia e per il territorio di Camaiore. Quest'anno la ruota resterà più a lungo a Lido fino all'inizio di settembre. Intanto anche l'amministrazione di Viereggio ha annunciato l'installazione per l'intero estate di una grande ruota. In questo caso addirittura arriverà a 45 metri di altezza con almeno 35 cabine sarà posizionata in Piazza Pea in passeggiata nei pressi del Molo. Il bando è stato pubblicato ieri dal comune di Viereggio ma ancora non ci sono dettagli sui tempi di installazione. Ci fermiamo per una pausa tra poco ancora insieme con le notizie sportive. Ben ritrovati, siamo alla pagina sportiva in primo piano c'è l'hockey su pista con le due versilesi Cigi, Civi, Viereggio e Forte Remarmi pronte a una nuova gara di play-off di campionato. Sentiamo i particolari da Roy Lepore. Ci gioca il pala Barsacchi mercoledì sera a gara 2 dei quarti di finale dei play-off Scudetto. Dopo il successo sulla pista del Bregalse con il punteggio di 3-1 i bianconeri di Alessandro Bertolucci sperano di poter chiudere subito il conto per poter poi respirare un attimino e riorganizzare le idee per l'inizio poi del semifinale in programma il 20 di questo mese evitando quindi la gara numero 3 in che sarebbe in programma sabato sera. Dopo la doppietta di Muglia e il gol di Costa c'è fiducia nella squadra bianconera anche per la prestazione che ha fornito il centro giovane calciatori sulla difficile pista Veneta. La squadra chiama il pubblico delle grandi occasioni proprio per sostenere in un momento così importante della stagione per la conquista della semifinale. Dal punto di vista dell'altra squadra locale il Forte De Valmi reduce dalla vittoria di 7-2 sulla pista di Sarzana ha regolarizzato piuttosto facile la squadra Liguri anche se ad un certo punto dopo il 2-0 di vantaggio dei Rosso-Bru c'era stato il pareggio momentaneo dei Liguri poi la squadra di Pierluigi Bresciani alla distanza ha dimostrato la sua superiorità e quindi spera ovviamente come il centro giovane calciatori di chiudere subito i conti mercoledì nelle altre gare in programma il Lodi aveva vinto all'andata 5-2 con il Valdagno mentre il Follonica aveva perso 3-2 con il Bassano questa sicuramente è la partita più incerta delle 4 in programma. Veniamo adesso alla ginnastica è stato un vero e proprio trionfo per la scuola Via Regina Motto a Pesaro 6 medaglie 3 argenti e 3 bronzi per la squadra versiliese al campionato italiano di specialità gold che si è svolto lo scorso fine settimana Letizia Berti si è laureata vice campionessa italiana senior con un'apprezzatissima esibizione al cerchio tra le junior Sofia Sicignano ha conquistato il secondo posto alla palla e Motto protagonista anche alle clavette con la seconda piazza ottenuta da una brillante carola quarto mentre Viola Simonelli è salita sul gradino più basso del podio medaglia anche per mattina Meniconi terza al nastro e le vediamo qua in questa foto che le ritrae tutte insieme esprime grande soddisfazione allo staffa tecnico della società Motto della società Via Regina ci fermiamo ancora per una brevissima pausa tra poco ancora insieme terza parte del TG Versilia Ben ritrovati terza parte del TG Versilia non ci sono aggiornamenti di cronaca vi ricordo il nostro sito web reteversilianews.com per rimanere aggiornati con altre notizie anche nelle prossime ore vedete in primo piano si parla proprio dell'installazione della ruota dell'estate a Lido di Camaiore poi trovate come sempre anche le altre principali notizie della giornata ma prima di salutarci il momento consueto degli auguri questa sera gli auguri di buon compleanno vanno a Giuseppe Antonelli comandante della Polizia Municipale di Forte dei Marmi che oggi compie gli anni auguri che arrivano dai familiari e dai colleghi festeggia gli anni anche Ilaria Bonuccelli di Viareggio collega del quotidiano Il Tirreno auguri che arrivano da parte dei familiari e degli amici buon compleanno che va anche a Cinzia Donati di Torre del Lago Puccini collega di Paspartù auguri dai parenti e dai familiari e poi ancora auguri di buon compleanno per uno sportivo il viareggino Iuri Gasperini CT della Nazionale Azzurra di Karate e strutture della Yoseikan di Viareggio gli auguri che arrivano da genitori e dagli amici e con gli auguri è davvero tutto grazie per essere stati con noi buon proseguimento di serata grazie a tutti